Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo alcuni scontri televisivi. Il primo all'aria che tira tra Daniela Santanchè e Gennaro Migliori. Vediamo che cosa è successo. Si parla delle restrizioni imposte dal governo per far fronte al coronavirus. Siamo nel programma l'aria che tira. Si parla del decreto Covid-elezioni presentato da Fratelli d'Italia per chiedere la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza in area gialla. Un qualcosa di assolutamente giusto, no? Giusto. E dice così la Santanchè. Sono stufa delle parole. Ho detto a riguardo la senatrice che è interpellata da Mirta Merlino. Dice il nostro emendamento per riaprire in zona gialla, quindi in sicurezza, palestre e piscine è stato bloccato. Lega e Forza Italia si sono astenuti perché non vogliono assumersi la responsabilità. E allora cosa si va a fare in televisione a cercare di essere partiti in lotta con il governo? E così risponde Gennaro Migliori che dagli scranni di governo dice la Lega infatti è nella maggioranza. Ma la Santanchè risponde no, sono i risultati. Se vuoi te li dico anche in diretta. Io dico solo che la Lega è nella maggioranza, ribadisce il deputato d'Italia Viva, mentre la senatrice di Fratelli d'Italia sbuffava. Dice va bene, dite quello che volete. Io dico sono fatti, non opinioni. Quindi la Santanchè è andata un po' in confusione perché ha attaccato praticamente Lega e Forza Italia, ma poi non sapeva un po' come uscirne da questo. Beh, insomma, le aperture in zona gialla di palestri, piscine, in sicurezza, in realtà è stato bloccato da tutta la maggioranza, compresa Lega e Forza Italia. Ma Santanchè prima li attacca, però poi non sa come uscirne per non diventare troppo pesante contro i partiti che sono alla fine degli alleati di centrodestra. E poi dice la scorsa settimana abbiamo presentato la proposta di aprire i ristoranti in zona gialla. A quel punto interviene Giovanni Totti che dice cambiamo a votato ma non se lo fila nessuno. E la Santanchè continua dicendo smettetela di raccontare balle agli italiani. E poi Migliore risponde non fare propaganda su questi temi, abbiamo la necessità di realizzare un cambio di marcia. E poi la conduttrice ferma il dibattito dicendo siamo nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca. Da una parte la maggioranza e dall'altra parte l'opposizione è formata solo da fratelli d'Italia. Quindi un po' confusionario ma poi all'aria che tira c'è anche la rissa tra Claudio Borghi e Peter Gomez, sempre sui temi di ristori. Anche qui vorranno parole, basta stupidate. E così Peter Gomez vuole riscuotere le promesse fatte dai partiti, Lega comprese. Dice mi aspetto dal mio amico Borghi che lavori pancia a terra per rispettare la promessa di dare ristoria a tutti, dice il direttore del fatto quotidiano.it in collegamento con l'aria che tira. Borghi risponde, sempre lì ospite di Mirta Merlino sulla sette, infatti lo facciamo, dice. Ma Gomez insiste, non ho sentito una voce da parte della Lega che dicesse dopo tre giorni dall'insediamento del nuovo governo mettiamoci tutti insieme per dare più soldi alle persone. E prosegue, ieri a Milano c'è stata una manifestazione, ma Gomez non fa tempo a concludere che Borghi precisa, lo stiamo facendo, era tutto scritto male, stiamo riscrivendo. E così la giornalista dice, ma i ristoratori hanno manifestato contro Matteo Salvini che è sparito. Borghi, tu stai facendo fumo per non parlare del problema. Finita qui, neanche. Per sogno, Gomez è un fiume in piena e insiste. Ora siete voi nella stanza dei bottoni, non dire stupidate. Sui numeri. Ed ecco che l'economista della Lega può spiegare, stiamo riscrivendo meglio il decreto. Se vuoi sui ristori ti spiego come l'ha scritto Conte e come lo stiamo riscrivendo. Il botte risposta però non ne vuole sapere di finire così. E la conduttrice dice, fra qualche giorno sarà passato un mese dallo scostamento di bilancio. Quindi il tema è urgente. Beh, Borghi dice, noi stiamo cercando il più possibile di cambiare la traiettoria. Nel nostro piccolo, perché in Parlamento la Lega conta ancora per il 17% e non per il primo partito che è adesso, stando a quello che indicano tutti i sondaggi. Se ci fosse ancora Giuseppe Conte saremmo in zona scarlatta, non rossa. Sarebbe tutto chiuso. Si sta cercando di resistere a questa situazione, non perché vogliamo far morire la gente, ma perché c'è un errore di fondo nell'impostazione del lockdown. Beh, in effetti molti dicono che c'è continuità tra quello che fa Conte e quello che fa Draghi sul lockdown. E in realtà sì, nel senso che non si può aprire l'Italia come fanno nei paesi del Centro America. Abbiamo visto in Brasile dove creppano 2-3 mila persone al giorno perché lì fanno finta che non esista nulla. Insomma, non si può fare così. Bisogna fare le cose necessarie per cercare di contenere i decessi in Italia. Bisogna stare attenti a farlo bene. Ed è questo poi anche quello che dice Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Le chiusure, Giorgia Meloni dice, le chiusure sono d'accordo, ma fatte con criterio, con un certo ragionamento. Anche Borghi dice, beh, noi stiamo cercando di dare i ristori a tutti, però non abbiamo la bacchetta magica, non siamo quelli che decidono nel governo. C'è un governo di tutti, tranne Fratelli d'Italia, e quindi noi stiamo lavorando per riscrivere questo decreto un po' alla volta per cercare di ampliare la platea degli aventi diritto. In effetti, piano piano, la Lega sta ampliando. Già, a parte lo stralcio delle cartelle esattoriali che vogliono passare da 5.000 a 10.000 euro, e in più stanno cercando di ampliare quegli 11 miliardi che sono già di più, ma renderli ancora più ampi per indennizzare diverse categorie, più categorie di quelle previste in precedenza. Naturalmente, se non ci fosse stata la Lega nel governo, voi credete veramente che il PD colletta che sta pensando gli immigrati avrebbero aumentato la platea di quelli che potevano ricevere i ristori? Assolutamente no, non credo proprio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata e ci vediamo nel prossimo video tra circa una ventina di minuti e i video che trovate su Teleitali, Teleitali Seconda Rete, poi vengono caricati su Facebook circa un'ora dopo, in modo che lì, se vi sono interessati, li potete anche condividere sui vostri profili. Grazie a tutti quanti per l'ascolto e ci vediamo presto. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.